Nelle avventure di Pinocchio Carlo Collodi rappresenta il grillo parlante come essere saggio e di buon senso, ma anche la stessa coscienza di Pinocchio e nonostante un inizio burrascoso i suoi consigli verranno poi ascoltati. Probabilmente lo scrittore fiorentino, nonostante la sua immensa fantasia, non avrebbe mai immaginato che, a 140 anni di distanza dalla sua celebre opera, il simpatico insetto canterino avrebbe avuto un ruolo ben diverso. Dal 24 gennaio si potrà infatti trovare la polvere di grillo domestico sugli scaffali dei supermercati di tutti i 27 stati membri dell'UE. L'ha stabilito la Commissione europea il 4 gennaio come primo regalo del nuovo anno, pubblicando l'autorizzazione sulla gazzetta ufficiale dell'UE a firma della Presidente Ursula von der Leyen. Si tratta del terzo insetto provato per il consumo umano. Nel novembre 2021 era stata, la volta della locusta migratoria, la famigerata cavalletta delle devastazioni. Nel febbraio 2022 della larva gialla della farina, quella che troviamo infiltrata nelle nostre dispense. Sembrerebbe un pesce d'aprile fuori stagione, ma troverete i link dei regolamenti europei d'approvazione in descrizione. Ma come si produce, in concreto, questa polvere di grillo? Nell'allegato del regolamento, al punto 2, si legge, il nuovo alimento è ottenuto mediante una serie di fasi che prevedono un periodo di digiuno di 24 ore degli insetti per consentire lo svuotamento intestinale, l'uccisione mediante congelamento, l'essicazione, l'estrazione dell'olio e la macinazione. E la stessa procedura già prevista nei regolamenti per la locusta migratoria e la larva della farina. Come illustrato in tabella, sempre secondo regolamento UE, la polvere di insetto potrà essere usata nella preparazione di numerosi alimenti, dal pane alla pizza, dai prodotti sostitutivi della carne al latte in polvere e a molti altri. Curioso analizzare chi è autorizzato dalla Commissione a produrre tali alimenti. Nonostante siano mercati previsti in crescita esponenziale nei prossimi anni, con miliardi di euro di fatturato, ogni regolamento presenta un solo produttore esclusivo per 5 anni. Per la larva e la locusta è l'olandese Fair Insect, e già il nome di insetti leali è un programma. Ma la polvere di grillo è ancora più particolare. L'azienda produttrice unica a proporsi è la Cricket One di Ho Chi Minh City, una start-up vietnamita, con il motto Nutrire il futuro. Come è facilmente intuibile, i capitali non sono locali, ma erogati dalla filiale di Corecam a Singapore, una finanziaria svizzera fondata nel 2009, che oltre alla sede asiatica ha anche controllate a Francoforte, a Vienna e dal 2017, anche a Ho Chi Minh. L'entità dell'investimento non è mai stata resa nota, ma l'amministratore delegato di Cricket One, il giovane Nam Dang, ha ammesso che si tratta di un importo in dollari a sette cifre. Autorizzazione firmata da Ursula per affari di miliardi di euro. Non ricorda qualcos'altro ancora sotto silente indagine della Procura europea che finì a tarallucci ai messaggini? Come è stato accolto dal nostro paese, fresco vincitore del premio di miglior cucina del mondo da parte dell'enciclopedia culinaria Taste Atlas e Via Libera ai Grilli? Il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e forestale, Francesco Lollobrigida, diceva all'inizio del suo mandato in questo governo non ci sarà nessun spazio per carne sintetica e farina di grilli. Il nostro obiettivo è difendere i cittadini dalle degenerazioni che vogliono far passare l'idea che basta nutrirsi, a prescindere da dove e da come viene prodotto il cibo. Ora aspettiamo i fatti. Ancora più deciso, Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, l'associazione che unisce il mondo dell'agricoltura e dell'industria alimentare, nata anche per difendere gli interessi del Made in Italy a Bruxelles e sugli altri tavoli internazionali. Mangi pure gli insetti, chi ha voglia di esotico e di cibi lontani dalla nostra cultura, ma ha un gioco in mala fede ed è sbagliato e diseducativo presentarli come alimenti sostenibili da scegliere in alternativa alla nostra dieta perché meno impattanti sull'ambiente. L'agroalimentare italiano ha un'emissione di CO2 pari a un terzo delle emissioni francesi e a metà di quelle tedesche, per non parlare del confronto con altri continenti. Oltre ai nuovi alimenti il nostro agroalimentare ha, per ora, resistito all'imposizione del Nutriscore, chiamato anche semaforo alimentare. Introdotto in Francia già 15 anni fa, calcola in modo fuorviante il contenuto in grassi e zuccheri dei cibi su 100 grammi, facendo risultare l'olio d'oliva nel settore di colore rosso e la bevanda gasata per eccellenza, light, in zona verde. La commissione preme da anni per una etichettatura dei cibi mai veramente designata tenendo conto di tutti i fattori nutrizionali. Un'Unione europea che vuole imporre quali energie utilizzare, infilandosi in conflitti in modo distorto. Un'Unione che vuole imporre il tipo di motore delle nostre auto, anche se non sostenibile. I piani scolastici attraverso il PNRR e le gestioni sanitarie attraverso agenzie accentrate. Il modo in cui finanziare il nostro settore pubblico è presto quando e quanto spendere attraverso la valuta digitale. Ora anche l'intrusione su quali ingredienti utilizzare nei nostri cibi, ingredienti che culturalmente non ci appartengono e che non abbiamo richiesto. Magari un preludio a un futuro blocco di produzioni alimentari tradizionali per ragioni ambientali? Diceva al compianto Roberto Gervaso che la realtà supera la fantasia perché il caso va oltre ogni immaginazione. Ma con questa Unione europea nulla accade per caso. Grazie a tutti.